Ve l'avevo detto che lo costringevo a fare spesa oggi. Questa è la seconda sosta eh comunque dobbiamo ancora comprare tante cosine. Ho fame. Amore poi andiamo a fare spesa, andiamo a comprare qualcosa da mangiare, si cucina, sei contento? Ti mancavo? E dopo per la Mirko passiamo alle tizietti. Allora a me questi video mi fanno infazzire perché? Perché io sono una boomer che avrà bisogno di tanti ritocchi però non frequento estetiste, non frequento parrucchieri, ho i capelli sempre in uno stato pietoso, infatti li vedete sempre raccolti nelle mie foto, me li taglio da sola proprio non so da quanto tempo non... e vedere queste ragazze giovani che si sanno truccare, frequentano questi posti a me quasi avulsi, non lo so, mi rende particolarmente curiosa. Poi Letizia, devo essere sincera, è una ragazza bellissima, ha questi capelli lucidi che mi fanno morire dall'invidia, ma devo essere sincera, io ho il doppio dei suoi anni e va bene così, mi lascio. Vi chiedo però sempre un live, ve lo scloppo stavolta, ciao!